Mezzogiorno di fuoco in tribunale a Padova, va di scena il processo per direttissima Dolores Valandro. L'accusa è istigazione alla violenza sessuale per motivi razziali. Il sole ha picco quando arriva la consigliera di quartiere che il 13 giugno aveva pubblicato su Facebook un post con la foto del ministro Chienge con la frase «Ma mai nessuno che se la stupri così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato?». Da quel momento le reazioni esplodono forti, dure. La Lega Nord la espelle mentre il comune di Padova e tre associazioni per i diritti degli immigrati si costituiscono parte civile. Oggi la prima udienza. Dolores Valandro esce dal tribunale circondata dal gruppo di amici che la sostiene. Il suo legale, l'avvocato Massimiliano Nicolai, allarga le braccia. Il giudice ha accettato tutte le richieste di costituzione di parte civile. Il mio stupore è che questo associazionismo che viene tutelato come riconoscimento di costituzione di parti civili porterebbe paradossalmente alla costituzione di parte civile di centinaia di associazioni per qualsiasi tipo di reato. Le associazioni contro il razzismo e per i diritti degli immigrati che si sono costituite parte civile esultano. In realtà questo procedimento credo che sia più che altro documentale perché è documentale quello che ha scritto, detto, pensato e anche il seguito che purtroppo le sue esternazioni hanno avuto. Una donna che ha insultato un'altra donna in una maniera che io resto veramente, non lo so, una parola che non posso neanche dire. La società civile sarà difesa. Siamo proprio in totale sostegno sia del processo che se la giustizia sia fatta. Se le associazioni di immigrati esultano il gruppo di amici di Dolores Valandro non si arrende. Non c'è nulla da sottoscrivere, ci sarebbe la possibilità però volendo sia prima che adesso di comprendere esattamente ciò che una persona tenta di dire. L'abbraccio più caloroso per Dolores Valandro arriva dagli ex leghisti Paola Gosis e Santino Bozza. No, noi siamo ancora leghisti. Gli ex leghisti sono andati alla cosa 2.0. Se succederà che conteneranno la nostra donna, io credo veramente che non credo più alla giustizia italiana. Poi c'è lei, Dolores Valandro, silenziosa. Poche parole a chi gli chiede se è tranquilla. Certo che sì. È tranquilla? Sì. Il secondo round, il 15 luglio. La difesa non intende né patteggiare né ricorrere ad altri riti alternativi. Quindi si passerà alla fase dibattimentale. Dolores Valandro spiegherà come e perché ha scritto quel post, mentre gli amici fuori l'aspetteranno a volte in silenzio, a volte no. Non è reato essere italiani. Difendiamo le nostre donne.